Buongiorno a tutti, sono Marcello Contu di calore360.com e voglio fare un breve video per parlarti di schiavitù. Tu direi che c'entra la schiavitù con gli impianti di riscaldamento e invece c'entra tanto. Sulla base di quello che vedo in giro, soprattutto in certe zone d'Italia, ti posso garantire che se non è schiavitù quella di una persona che riscalda casa con un termocamino o con una stufa a pellet o con una delle tante caldaie che vanno a cosiddetta biomassa, quindi idem per la legna naturalmente, sai benissimo di che cosa ti sto parlando. Se hai una soluzione a legna devi preoccuparti di procurare la legna e oggi i prezzi sono in continuo aumento. Dalle 7.000 lire di anni fa siamo passati anche a 15 euro a quintale. Poi devi preoccuparti di maneggiare tutta questa roba. Per una casa di due piani è molto facile utilizzare 200 quintali di legna all'anno. Ogni mattina ti devi preoccupare di pulire il cammino, di aspirarlo, di buttare via la cenera, eccetera. Vai fuori casa per un periodo, naturalmente il cammino non si carica da solo, quindi torni a casa e trovi la casa ghiacciata. Le soluzioni a pellet sono un po' più pulite, però stiamo parlando sempre di dover muovere sacchetti che pesano 15 kg, quindi magari una donna se non particolarmente energica non riesce a muoverli con facilità. E comunque anche per gli uomini è un bell'impegno, nulla da dire. Naturalmente ogni mattina devi preoccuparti di aspirare il braccio con l'aspiracenere, devi preoccuparti di pulire il vetro perché altrimenti vedi tutto anerito, tutto sporco e non mi pare il massimo della vita. Quindi se tu senti che queste mie parole ricalcano anche un pochettino la tua situazione, quindi di schiavitù per poterti scaldare, ti sei un po' scocciato di questa roba, la soluzione è semplicemente una, gli impianti di riscaldamento automatici. Per me non può esistere che se hai voglia di fare la legna e di portarla a casa ti scaldi, se non hai voglia non ti scaldi, se una settimana ti sei preso un raffreddore e devi essere ugualmente costretto ad andare in garage, andare all'esterno sotto la tettoia dove hai messo la legna per portartela dentro, né può succedere che siamo persone, io personalmente faccio circa 40.000 km l'anno in macchina, mi devo mettere il problema che prima o poi potrebbe succedere qualcosa per cui mi spacco una gamba, chi la porta la legna, il pellet e le altre cose a casa, lo fai fare a tua moglie, lo fai fare a tua madre, sono cose che non vanno bene. Il top secondo me è qualche amico che ha comprato la stufa pellet per casa della madre, dove ovviamente indovina chi si occuperà del caricamento di quella stufa pellet, indovina chi si deve preoccupare tutte le mattine di andare a pulirla e aspirarla, tu, ok? Per me il sistema di riscaldamento, ti dicevo, deve essere automatico, semplicemente deve funzionare indipendentemente dalla tua presenza a casa, devi essere in grado di accenderlo e spegnerlo da remoto, i nostri sistemi lo fanno tranquillamente, esistono delle app per cui tu da smartphone, qualunque sia, sia Android che Apple, puoi tranquillamente accendere e spegnere l'impianto, puoi cambiare la temperatura, puoi cambiare la programmazione oraria e puoi anche verificare i consumi da remoto e senza andare a guardarti il contatore del gas, se parliamo di soluzioni a gas. Il nostro sistema si chiama calor360.com, se vuoi saperne di più basta che vai sul sito che ti ho appena detto, oppure magari parliamo del tuo caso specifico, è sufficiente che mi scrivi una mail al mio indirizzo personale marcellochiocciolacalor360.com, scritto in numeri, per qualunque tipo di cosa non metterti problemi a contattarmi, ti suggerisco di liberarti dalla schiavitù della legna del pellet. A presto!